Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono MadGamer007 e benvenuti a questo nuovo video Ragazzi vi volevo dire, la news non è soltanto la news ma vi volevo dire che il nome del canale non si chiama più MadGamer007 ma MadGamer Comunque ragazzi, vi sembra strano ma un mio amico mi ha detto che i speciali si fanno a 10 in poi, a 10, 20, 30, 40, 50 se è nata così Ma io vorrei fare lo speciale, 6 iscritti Lo speciale 6 iscritti non è un bel traguardo ma io vi volevo dire grazie, grazie mille Grazie per avermi dato tutti questi iscritti, like, vabbè, mica che tanto 6 iscritti ma non fa niente ragazzi Quindi per questo io farò per questo speciale 6 iscritti una chat strana con Cleverbot Stavolta Cleverbot Ok, vi farò Cleverbot ragazzi, nel prossimo video verò Cleverbot contro Eevee contro SimSimi Ok, iniziamo Ha perso connessione Visto ragazzi che Cleverbot ha perso la connessione faremo Eevee contro Cleverbot contro SimSimi Cleverbot了 Cleverbot 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 è il mio amico come come? io sono sim sim e se voi dite che sono brutto io mi... io mi... cancio! ok calma il sangue però! io sono un cazzo io sono soltanto un cervello e ragazzi questa era la conversazione da ivy clever bot e simsimi ragazzi ve lo dico sempre grazie molto per questi like iscritti e le altre visualizzazioni ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spoliciate commentate e iscrivetevi e non ci vediamo in un prossimo video come sempre mettete like se volete un altro speciale ciao! 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 ciao!